Questo corso è dedicato ai diversi temi, alle diverse questioni che riguardano le minoranze. Per minoranze intendiamo tutti quei gruppi che condividono una determinata specificità culturale, ma anche politica, economica e legale. Questioni quindi che attraversano diverse problematiche, che saranno trattate in più prospettive, considerandole sia in chiave teorica che pratica, facendo riferimento ad esperienze, saperi e competenze che si sono costruite intorno ai diversi casi che si presenteranno. In questo primo capitolo tratteremo il tema dell'identità, proponendone un'accezione allargata, intesa quindi come identità culturale. Poi parleremo di rapporti interculturali, intendendo l'intercultura come il seme di tutte le costruzioni identitarie, che in tal senso possiamo sempre definire come ibride. Parleremo anche degli aspetti storici meno rosei e tristemente più significativi legati agli incontri tra culture diverse. In particolare ci riferiremo all'approccio che i diversi popoli europei hanno avuto nei secoli passati, agli albori della modernità, nell'incontro nella relazione con le altre culture. Cercheremo di capire come le tracce di queste storie siano ancora vive. Infine parleremo dell'attuale condizione storica, definita dai processi di globalizzazione e multiculturali e dando risalto a un ruolo svolto dalla dichiarazione dei diritti umani all'interno di tali processi.